Sì, le mani! Sì, le mani! Sì, le mani! Destra! Ecco, forse si può perché non può mostrare questi basti! Destra! Sì! Mata un palaggio! Va, va! Avanti! E sopra così! Sopra così! Avanti così! E sopra così! Arriba! Veloce! Destra! Ok, ok! Sì! 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 Ok! Ok! Sì! 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 Sì, sì, sì Ehi! Allora, andate! Anna! Anna! Ehi! Anna! Non lo faremo, nesta! Che puoi pari! 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 Passe da quietia! Ehi! 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 Ihi! Passe da quietia! Passe da quieti! Passe da quieta! Grazie a tutti.